Restiamo sempre in tema di cronaca sequestrata dai carabinieri del Noe di Campobasso, un'area di 2000 metri quadri su cui era stato costruito un impianto di autodemolizione senza la necessaria autorizzazione ambientale. Vediamo. I carabinieri del Noe di Campobasso, coadiuvati dai militari della stazione dell'arma di Monte Cilfone, nell'ambito di verifiche e controlli ambientali sul riciclo dei rifiuti smaltiti e recuperati nella provincia di Campobasso, servizi volti anche a prevenire il grave e attuale fenomeno degli incendi in impianti di trattenimento di rifiuti, hanno sequestrato un'area di 2000 metri quadri su cui era stato realizzato abusivamente un impianto di autodemolizione, impianto costruito in assenza di autorizzazioni ambientali. Sul terreno, su cui peraltro era gestita una discarica abusiva di rifiuti speciali, sono stati trovati veicoli fuori uso non bonificati, parti meccaniche derivanti dallo smaltimento degli autoveicoli, pneumatici usurati, serbatoie motori per autotrazione, batterie al piombo, filtri dell'olio, olio motore, nonché rifiuti di demolizioni e altro, materiale altamente dannoso per l'ambiente. I tre gestori dell'impianto sono stati denunciati alla competenza autorità giudiziaria per i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la realizzazione di una discarica abusiva di tre manufatti in assenza di autorizzazioni urbanistiche.